Terza tappa in provincia di Prato del Tour l'Europa in Toscana del presidente della regione Enrico Rossi per verificare e informare i cittadini su come vengono utilizzati i fondi europei dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende toscane. Nelle immagini vedete il presidente mentre visita lo stabilimento della Manteco di Montemurlo che fabbrica tessuti dal 1943 e dove grazie ai fondi europei sono stati realizzati diversi progetti all'insegna del risparmio energetico e della sostenibilità. Anche nella storica tintoria Fratelli Ciampolini di Galciana grazie ai contributi europei si è puntato sull'innovazione, l'abbattimento dei consumi e delle emissioni. Nel Museo Pecci di Prato 2 milioni e 400 mila euro di fondi europei su un investimento complessivo di 3 e 4 hanno consentito di ampliare e rinnovare gli spazi espositivi. Ho saputo proprio oggi che la prima mostra fatta al Pecci nel 1988, l'anno dell'inaugurazione, era dedicata all'Europa e quindi mi fa piacere due volte ricordare che questa struttura è stata ampliata, rimodernata, modernizzata e messa in sicurezza e anche abbellita, se posso dire, grazie ancora una volta a un contributo importante che la regione ha messo e che veniva dall'Europa. Nella zona del Macrolotto invece, grazie a un progetto di innovazione urbana, sono in corso i lavori per ristrutturare e riqualificare un'area di 43 ettari. Nelle immagini vedete i lavori in via Pistoiese, dove su 900 metri quadrati della fabbrica Forti nascerà anche un grande mercato al coperto per i prodotti locali. Tappa successiva è il polo universitario di Prato, che investe nella ricerca a servizio del tessile anche risorse europee, formando tecnici specializzati e partecipando a progetti di formazione rivolte a imprenditori, liberi professionisti e disoccupati. Infine, l'Istituto Tecnico Statale Buzzi, fondato nel 1886 e adeguato i percorsi didattici alle mutazioni del sistema moda e alle esigenze delle imprese del territorio, investendo risorse anche europee nell'alternanza scuola-lavoro.